Alla mia sinistra, e non è un caso che io sia a sinistra, perché io ancora c'è credo un PD diverso, Piero Torri. Io no, tra l'altro non è stato mai il mio partito, e quindi... Un ringraziamento a Dazzon, perché mi ha consentito di esultare di fronte a una rotella che girava, e il ringraziamento non è esteso alla lega del dottor De Servo, per risolvere la situazione. Mi stai a levare qualcosa? Penso all'iraniano con cui sono solidale per la sua battaglia al fianco delle donne iraniane. Pensavo per i cavalli. Pensavo per i cavalli. No, anche per i cavalli volendo, anche per i cavalli. In Bundesliga gli fanno, guarda là, quelli guardano gli fanno go. C'hanno un concetto difensivo in Bundesliga un po' diverso da quello italiano. E poi perché mi piace sottolineare... Ma scusate, questa cosa che secondo Piero, tutti quelli nati al di sopra delle abbi, sono degli imbecilli. No, dei cagioni. È una roba. Dei cagioni. Cioè, è tutto un unico popolo. Bundes, nordico, centro-Nordico. Persone gelide e insensibili. Tutti hanno chiamato e tutti lo fanno giocare. Scusa, sei pronto Piero? Mazza, da nascita. Professionista esemplare Gabriele. Non mollava mai il computer, testa, cuore, meccanismi di lavoro. Un soldato Piero, così lo definirei Gabriele, giusto? No, un soldato secondo me non è un complimento. Tu sei pacifista, sei, Piero. Un soldato porta le armi e quindi non mi appartiene. A me poi chiunque si mette una divisa, dai vigili. Che c'hai consiglio? Me convincono poco. No, a me piacciono poco. Che devo fare? A me c'è stata un sacco che ti vogliono bene. I vigili rimanno il coglionito delle murte, vedi. Sì, ma c'è stato un sacco che ti ascoltano, ti ascoltano, ti vogliono bene. Perché devi... No, 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 insomma... Io non vorrei essere finito il soldato. Vabbè, chiarissimo, chiarissimo. Grazie, Piero. No, torniamo a noi. De Riffa o De Raffa? Quando tu stai le ultime dieci giornate testa a testa a caio e mettete il metto perché te può succedere qualcosa. Tipo cosa se la montare, dici? Che equilibriere... Ciao a tutti, quasi a tutti.